cosa c'è nella busta misteriosa beh adesso ve lo dico ma prima lasciate un like al video e seguite il canale se già non lo state facendo beh c'eravamo lasciati che dovevo ancora aprire anzi doveva ancora arrivarmi uno dei regali di compleanno che mi sono fatto sotto forma di una rookie trading card firmata della wwe e ora apriamo il pacchetto assieme sono un po impaziente quanto ho speso vi starete chiedendo poco più di 50 dollari tra l'altro mi ha messo dei regali oh che simpatico che gentile iniziamo a vedere i regali 50 dollari più la spedizione guardate un po mi ha messo j uso da chronicles gentilissimo qua il ragazzo che ha spedito poi cowboy bob horton oh queste non me l'aspettavo è tutta roba in più abbiamo anche una rachel rodriguez con il bordo azzurro bene bene e questo chi è axiom a che bello scudettato toro e ancora cruz del toro ora nel latino world order e il season ticket di brock lesnar sono belle queste trading card sono della linea chronicles io non l'ho fatta devo risparmiare c'è anche live morgan devo comprare casa dopo 25 anni di lavoro quindi quella è la priorità ma andiamo al pezzo forte andiamo insomma al motivo dell'acquisto un attimo che c'è dello scotch sto facendo tutto in diretta quindi insomma la scotchata veramente forte ad ogni modo dicevo ho speso 50 dollari più la spedizione è un investimento sicuro è mica tanto è anzi ho parecchi dubbi allora sono riuscito a togliere lo scotch e finalmente vi posso mostrare la trading card che ho acquistato rarità sulle 99 ti ha il firmata a che bella sono un po di riflessi perché è una serie particolare prism qua dietro c'è la rarità ok 92 di 99 se non sbaglio ti ha il qualcuno tra l'altro nei commenti ci aveva indovinato ho preso proprio la ragazza pompon attualmente la cheerleader della chase university e quindi lei e fabian eichner oggi giovanni vinci sono i miei regali di compleanno che si uniscono a quelli che mi avete fatto voi con la wishlist di amazon quindi grazie ancora per quello che mi avete spedito ora c'è anche una bellissima firma mi piace perché a volte gli atleti lo fanno di corsa invece ti ha il è stata brava ci ha messo cura dicevo è un atleta che avrà successo è impossibile pronosticarlo però è giovanissima ha solo 20 anni dall'altra parte tuttavia nxt è un calderone difficile da decifrare un rebus impossibile quindi io ho qualche riserva però stiamo a vedere no e questo mi fa pensare alla parola meteora e il wrestling e la wwe sono pieni di meteore e quando ragiono sul termine due subito immediatamente mi balsano in testa e sono atleti di metà degli anni 2000 quindi magari se siete stati investiti dal boom televisivo italiano con smackdown su mediaset su italia 1 magari vi siete anche imbattuti in loro beh se seguivate su sky sicuramente qualcosa dovrebbe frullarvi nel cervello allora la prima di queste meteore vediamo se vi si accende la lampadina è chisarni atleta serbo croato canadese amico di edge e christian arrivato in wwe attorno al 2006 dopo diversi anni di gavetta cioè non era un signor nessuno aveva già maturato una bella esperienza però la federazione come da prassi va a dislocarlo nei suoi territori di sviluppo e inizia a pubblicizzarne l'imminente debutto a smackdown solo nell'ottobre del 2008 ma chi è questo chisarni cioè già a guardarlo fa un po strano beh lui ha un aspetto un po gitano quasi zingaresco e incarna vedete che dietro di sé c'è una sorta di giostra ecco incarna il modo di essere e anche di parlare di quelli che dovrebbero essere gli albori della disciplina quando il wrestling ve ne ho parlato tra l'altro di recente in questa rubrica a ruota libera quando il wrestling veniva disputato nei circhi itineranti spesso come escamotage per truffare gli spettatori però sembra sin da subito un progetto incompleto e dura davvero poco è giusto una manciata di apparizioni un solo match singolo un cartellino timbrato se non ricordo male in una battle royal e poi viene licenziato così pam forse per tagli al roster forse per l'incompatibilità con alcuni veterani forse ancora perché l'esordio contro mvp nei piani non va come si era pensato vallo a sapere però boom giù la scure e di chisarni nel giro di pochissimo non si sa più nulla inghiottito dal buio dalla storia del wrestling almeno per quanto riguarda il brand wwe perché poi andrà avanti a lottare altrove ma forse ancora più adatto al termine meteora è vade hansen un combattente britannico che io sono quasi riuscito a portare in italia per degli show quando ancora li organizzavo era bravo era preparato sapeva parlare poi aveva quest'immagine particolare che secondo me riusciva a bucare lo schermo e questo vade hansen giunge in wwe più o meno nel 2007 ma anche lui viene stallato nelle federazioni satellite sul finire del 2008 a dicembre però a smackdown ecco un promo che lo presenta ai fan quindi c'è un video di lui in quello che sembra non si capisce un sottopasso un luogo oscuro e ameno no e c'è lui che parla e il suo personaggio ricorda molto il fallen angel christopher daniels più diciamo macabro perché rappresenta il leader almeno apparentemente il leader di un culto di persone votate al male e desiderose di rivalsa rivincita e potere dei rifiuti della società pronti a donargli corpo e anima per realizzare delle strane profezie per inciso vi ricorda qualcuno i rumor lo vorrebbero come la mente di una serie di nuovi avversari per the undertaker con la forte possibilità di un confronto diretto col dead man avresta il mania credo la 25 dovrebbe essere avresta il mania 25 però il tutto si ferma anche qui nel giro di un paio di settimane e vedensen non riesce nemmeno a metterci piede in uno show televisivo della wwe visto che la federazione lo licenzia per cause misteriose le leggende metropolitane dicono che vince mcmahon incontrandolo nel backstage non fosse rimasto positivamente impressionato dalla sua figura in effetti era poco più che un peso leggero ritenendolo scenicamente inadatto per un ruolo così importante contro un avversario di così alto livello come l'undertaker ma vai a capire se è vero oppure se è solo mito o diceria fatto sta che sparisce così nel nulla come se niente fosse quelle minacce generiche quel progetto anche qui è come se non ci fossero mai stati boom colpo di spugna e azzeriamo tutto beh è una sorte ovviamente differente rispetto a quella che auguriamo a tia e il che a onor del vero ha già racimolato molto di più rispetto ai due citati ai due che ho nominato a maggior ragione ora che ho fatto questo piccolo investimento su di lei c'è insomma da incrociare tutte le dita e toccare ferro ok così mi si rivaluta vabbè e questo è quanto direi che per oggi ho terminato quindi ricordatevi di lasciare un like e di iniziare un like non i fuochi d'artificio di lasciare un like un like e di iniziare i vostri acquisti su amazon dalla mia vetrina è un click passivo trovate il link nella descrizione del video e ora ditemi voi ho speso bene il mio denaro e a quali altre star associate la parola meteora fatemelo sapere qui sotto con dita roventi nei commenti